Al piano superiore c'era una cucina molto spaziosa, al centro di essa sporgeva un grande focaride. Parole che costruiscono un mondo, raccontano storie, spiegano concetti. La voce come strumento per aiutare chi il mondo fatto di volti, di spazi, di frasi sulla pagina può solo immaginarlo o ricordarlo. Donano la voce i volontari che partecipano alla Voce del Buio, progetto promosso dall'Ansi di Campobasso. Obiettivo riempire di contenuti un portale a disposizione principalmente di non vedenti e ipovedenti. Coloro che si iscriveranno a questo portale, sempre gratuito, potranno sia scaricare direttamente l'audiolibro o ascoltarlo direttamente. Persone invece che non hanno questa capacità di utilizzare gli strumenti informatici potranno contattarci e noi invieremo gratuitamente un cd a casa. Per chi non vede, vuol dire proprio vivere quelle sensazioni, quelle emozioni che vengono descritte. Perché sì, è vero, esistono le sintesi vocali che per quanto le rendano espressive, non è la stessa cosa che sentire invece leggere un libro da una voce umana. Riesci veramente a vivere tutto, la commozione, la rabbia, qualsiasi emozione. Diventare donatore è semplice e non è necessaria l'esperienza. Li seguirò e li accompagnerò affinché loro possano diventare degli ottimi descrittori, degli ottimi lettori. Per trasmettere le stesse sensazioni solo col tono della voce, utilizza i numeri per leggere quella frase. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Basta solo avere voglia di donare un po' del proprio tempo. Mi sono detta ma perché no, anche perché a me piace molto leggere, quindi credo che poter leggere a una persona che non può vedere sia molto bello. Anche perché penso che le persone non vedenti, anche se possono leggere col braille, non sia la stessa cosa. Per riuscire ad essere capace, attraverso la mia voce, a dare gli occhi alla persona che ascolterà. Quindi essere in grado di farla emergere in questo mondo. È un'attività gratificante per chi ama fare volontariato. Come al solito è un dare e ricevere. È una forma importantissima quella delle volontariato, ripeto, proprio per dare agli altri, neanche per ricevere. Mi piace personalmente dare. In questa Sala dell'Ansia è possibile registrare ogni sabato. Ci vogliono 7-8 ore in media per un libro. Molti si sono già offerti, ma di nuovi donatori c'è sempre bisogno. A breve il portale sarà online, già un centinaio i titoli disponibili. Si può citare un esempio politico. La questione delle funzioni dello Stato, dei limiti da assegnare alle sue competenze. Si registra a Campobasso e a Termoli, dove ancora manca uno spazio come questo, ma non certo la voglia di contribuire. Questo genere di attività si può gestire in completa autonomia. Basta un computer e un microfono. C'è chi mi ha detto registrerò di notte, c'è chi mi ha detto prima di andare a prendere i bambini a scuola. Si può gestire in totale autonomia. Di dove però ci fosse la difficoltà nel reperire un computer, lavoreremo anche per avere questo tipo di opportunità. E il progetto non si ferma qui. Vorremmo coinvolgere anche i bambini per creare una sorta di filo che li accomuni. I bambini che hanno difficoltà potrebbero poter usufruire della voce dei loro coetanei che gli raccontano, che gli leggono un testo. I bambini che hanno difficoltà potrebbero potrebbero poter usufruire della voce dei loro coetanei che gli raccontano, 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 che gli raccontano.